Coach Delmati, domenica prende il via i play-off, 8 squadre, una squadra deve superare 3 avversari per poter sicuramente accedere in A1, con quale spirito la sua squadra affronta questi play-off? Con lo spirito che abbiamo sempre avuto nel campionato, quello che non ci poniamo dei limiti, ma superiamo i nostri limiti, cioè cerchiamo ogni volta di superarci, di fare il meglio possibile e meglio di quello che abbiamo fatto la partita prima. Non ce li siamo posti all'inizio, ci siamo posti dei piccoli obiettivi da quando siamo partiti il 23 di agosto e pian piano abbiamo tutti raggiunti e superati, quindi con lo stesso spirito dobbiamo ricominciare questa post-season che è un campionato un po' a parte, dove quindi si riparte un po' dallo 0 a 0 di punti, di classifica, di tutto, anche perché questo campionato penso che ha dimostrato che le prime 8-9 squadre, direi anche forse 10-11, sono comunque tutte squadre molto competitive e che tutte volevano accedere ai play-off, quindi è difficilissimo già dal primo turno. Appunto, come dice, sono tutte squadre forti, cominciando proprio dal Zambelli Orvieto che ha fatto vedere comunque delle ottime cose, soprattutto nel giro nel ritorno, quindi un osso duro per voi. Orvieto nel ritorno ha fatto un grandissimo campionato, analizzando solo la classifica del ritorno, nelle primissime posizioni. Quindi credo che sia una squadra che ci ha dimostrato, e ha dimostrato anche domenica scorsa contro di noi, di avere tutte le carte in regola per fare un grande play-off. Quindi, come sempre, noi ci poniamo con determinazione, coscienti dei nostri mezzi, ma anche sempre umili, perché l'umiltà di approcciare tutte le squadre ha fatto spesso la differenza per il nostro campionato. E quindi è importantissimo per noi affrontare ogni avversario, come se fosse il primo della prima giornata di campionato, con rispetto, con determinazione, ma anche credendo molto in noi stessi, perché abbiamo anche dimostrato dall'inizio del campionato ad oggi di essere una squadra che ha grandi valori, sia tecnici che morali. Partite in questi play-off da terzi in classifica, con un vantaggio non indifferente di poter fare l'eventuale gara a tre in casa. Partite da terzi così, anche come è stato per il tabellone di Coppa Italia, che alla fine, insomma, vi ha portato in finale. Sì, 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 diciamo che più che altro è importante per noi giocare in casa due gare su tre, perché come si è visto anche lunedì Pasqua contro Cuneo, credo che in questo momento a Mondovì la città è completamente a fianco di questa squadra, in tutto e per tutto. Quindi quando giochiamo in casa c'è veramente un clima stra-positivo, incredibile, che aiuta tantissimo le ragazze e noi anche, specialmente quando facciamo un po' fatica, c'è un momento di difficoltà. Quindi credo che per noi questa sia veramente una cosa di grandissimo valore, per esserci guadagnati la possibilità di fare almeno, se riusciamo, due turni in casa, poi si vedrà e anche dopo il primo bisogna guadagnarsi il secondo turno. Però il fatto di poter giocare in casa almeno le belle di i primi due turni è una cosa molto importante. Tifosi che si stanno già organizzando anche per la trasferta di Orvieto, sicuramente può essere l'arma in più per questa squadra. Sì, quest'anno ci hanno seguito tante parite fuori, mi ricordo per esempio a Marignano che hanno fatto un grandissimo tiff, una parita molto difficile nel ritorno, che abbiamo iniziato da 3 a 1, quindi la loro presenza fuori casa è una cosa veramente unica in questo campionato, credo, e quindi per tutti noi ha un valore, non dico superiore che in casa, perché in casa ci sono mille persone a partite, però ha un valore emozionale altissimo, indipendentemente da quanti sono a venire con noi in trasferta, perché fare un sacrificio del genere per starci vicino in questa categoria è una cosa, direi, veramente unica. Grazie a voi. Grazie a voi.